Prima di arrivare a Chioni c'è l'indicazione di una spiaggia, mi sembra Mavrusa, sull'ultimo tornante in fondo abbiamo visto delle macchine parcheggiate e abbiamo visto che c'era un sentiero, quindi siamo sui sentieri e siamo arrivati su questa spiaggetta. Però è molto stretta, piccolina, sassosa, penso che non ci fermeremo, però siamo senti a guardarla. L'acqua è sempre bella liquida perché qua ci sono i sassi e diventa profonda subito. Là c'è il porticciolo dove siamo stati un attimo fa.